A nome di tutta la Presidenza nazionale vogliamo esprimere i nostri auguri più sinceri a tutti gli aclisti e a tutti quelli che sono gli amici delle Acli o che sono vicini alle Acli per i nostri auguri per un Natale santo e sereno. Il Natale è anche l'occasione per fare un momento di riflessione, di preghiera, di pace, ma anche un bilancio per l'anno che è appena passato e per i progetti che abbiamo in futuro. Le Acli sono un'organizzazione molto grande da Agrigento a Bolzano, in giro per l'Europa o per il mondo, sono un'organizzazione che fa servizi, che fa pedagogia sociale, che fa cultura, che fa riflessione, che dà aiuto e noi crediamo che ancora oggi sia una grande missione, certo ogni volta è l'occasione per fare una riflessione e capire come possiamo migliorare. Il prossimo anno lo dedicheremo in particolare all'Europa, che è un po' il nostro compito e il nostro destino e noi ci auguriamo che anche questa riflessione sia importante per tutti per capire il destino verso il quale noi siamo avviati. Buon Natale a tutti!